Questo è il nostro messaggio di fine anno, con un bilancio sul 2023, con ciò che ci è accaduto di bello e anche purtroppo di meno bello. Inizio da un messaggio generale, proprio qui dall'albero della mimosa, che sta per fiorire a fine dicembre. Quindi il clima e i cambiamenti climatici sono sicuramente una priorità di tutti noi, una priorità generale, che anche col blog io cerco, nel piccolo della cucina, di lanciare qualche messaggio di buone pratiche positive per la sostenibilità ambientale. Il secondo è che la mimosa è l'albero che rappresentano i donne e la violenza sulle donne ha sicuramente segnato tutti questi ultimi anni. Ci deve essere un cambiamento netto, deve partire assolutamente dagli uomini. 2022 si è chiuso in maniera non bellissima, nel senso che non sono stato veramente male, anche se poi ho incominciato ad intravedere un pochino di luce per guarire da questa cosa che avevo. Però poi il 2023 si è presentato veramente in maniera drammatica, perché il 16 di gennaio è morto un mio carissimo amico, Salvatore, una persona per me importantissima, io chiamavo fratellone, anche se ero io più vecchio. Ed ancora oggi non soffro per la sua mancanza. Poi a marzo, proprio per fare un po' di convalescenza, io e Renata abbiamo fatto un viaggio che diventerà poi molto importante. Sì, perché a marzo abbiamo deciso di venire quattro giorni nell'imperiese, quindi non lontanissimo da Genova, una zona che io adoro, perché è una provincia meravigliosa, fatta di borghi stupendi, con un'entroterra veramente particolare, montagne vicine al mare. Qui è possibile vedere i camosci con lo sfondo del mare, qualcosa davvero di straordinario, una zona apprezzata moltissimo dagli stranieri e forse poco conosciuta dagli italiani. Eh sì, ci siamo proprio innamorati dalla provincia imperiese, in particolare di questo paese sulle colline che si chiama Lucinasco, e qui abbiamo scelto di prendere, come dire, una casetta, questa qua che vedete alle mie spalle, e di iniziare anche un'attività di valorizzazione del territorio e in particolare con i nostri amici ci siamo messi a produrre poco, ma buono, molto buono, olio extravergine d'oliva, una bellissima iniziativa. Poi ci siamo ancora ampliati per un'idea di Luciano, e adesso abbiamo più di 70 alberi, abbiamo messo il numerino, io vorrei dare anche a ogni albero un nome. Magari ce lo facciamo suggerire dei nostri amici. Sì, sarebbe carino. E mi sono anche innamorato, devo dire la verità, oltre che dal posto, anche di tutte le piante che ci sono. Quest'area viene chiamata prea, qui a Lucinasco, ci sono meli, peri, fichi, susine, un arancio, il caco, i ciliegi, il caco, sì. Ecco, l'ho imparato, mi sono studiato, mi sono scritto dei corsi e sto imparando, sto imparando a potarli, a trattarli, per tenerli belli e fargli fare dei buoni frutti. Nelle fasce ci sono anche dei bellissimi fiori, ma anche tantissime erbe selvatiche commestibili. E qui è sicuramente anche l'occasione per me di approfondire alcuni spetti per il blog, moltissime ricette della tradizione ligure e sto anche studiando per imparare a riconoscere le erbe selvatiche. Abbiamo già raccolto le bietole, le borragini, alcune insalatine per poi preparare proprio tipo i ravioli del posto, le torte di verdura e tantissime ricette. Quindi spero che vi piaccia, insomma, anche questa nuova iniziativa che vorrei portare avanti nel 2024. E poi la nostra pazzia Attila è stato praticamente figlio unico fino al 2023 e poi da maggio è arrivata la momi e poi, come sapete, ci siamo talmente innamorati di queste chihuahua che immaginavamo cani da salotto, invece sono cani da portare fuori a camminare, a correre, si divertono tantissimo con noi, è arrivata anche la Siria. Ed eccoci qui dal Cardo, per farvi i nostri migliori auguri per un buon 2024. Noi a Santo Stefano abbiamo riunito la famiglia al completo qui con Nicolò e Francesco. Per Francesco è stato l'anno della maturità, è stato bravissimo e poi anche dello sport. Fra l'altro si è iscritto all'università, una nuova facoltà che ha parto a Genova, proprio sullo sport. È tutto un esperimento, però insomma ci piace questa cosa. Nicolò invece sta continuando a lavorare, sempre in Germania, è un lavoro molto importante che gli sta dando grandi soddisfazioni. Quindi, come per tutte le famiglie, luce e ombre spesso in rete si mettono sempre le cose più allegre, però anche noi abbiamo i nostri problemi. Noi cerchiamo di coinvolgervi e augurandovi un felice e soprattutto tanta salute per il 2024, gioia, serenità e poi se avete piacere seguiteci. Vi ringraziamo perché senza di voi non siamo niente. Non esisteremo. Ciao.